Amici benvenuti sul canale di Elaborazione Autosportive, oggi facciamo un video un po' particolare perché siamo a bordo di questa Jeep 2008 CRD e non parliamo di elaborazioni, non parliamo di modifiche, ma parliamo di una riparazione che riguarda appunto un problema non relativo alla macchina, ma un problema di delinquenza un po' diffusa che a Milano sta veramente creando problemi notevolissimi e faccio riferimento appunto al problema che sta diventando veramente un problema di emergenza sociale direi, perché noi quasi quotidianamente riceviamo delle telefonate da clienti che ci dicono sono sceso a prendere la macchina questa mattina e ho acceso la macchina, un rumore impressionante, sono andato sotto a vedere, mi hanno rubato il catalizzatore, quindi dicevo un'emergenza sociale perché ci sono proprio delle bande, penso, non so esattamente come si riescano a qualificare questo genere di persone che però vanno in giro in maniera spudorata per Milano, Milano so per certo che è una piaga, nel senso un grossissimo problema, penso lo sia anche in altre città ma non sono così come dire a conoscenza di quello che succede in altre città, a Milano sicuramente tantissime macchine vengono cannibalizzate di questa parte dello scarico con il semplice motivo che all'interno del catalizzatore ci sono dei materiali che il platino, il rodio, il palladio sono dei materiali estremamente costosi e nel riciclare il componente, nel riciclare il catalizzatore vengono estratti questi materiali e questo basta documentarsi su internet, da un catalizzatore normalissimo si riescono a recuperare anche più di 100 Euro nell'estrazione di questi materiali, quindi 100 Euro a macchina, potete capire che queste persone qua che vanno in giro con degli attrezzi, adesso fanno tutto a batteria, quindi ci sono dei seghetti e batteria, quindi tagliare il catalizzatore sono solamente due tubi, è una roba semplicissima e da quello che sono vengono fatti queste esportazioni in qualunque posto di Milano, quindi non c'è una zona in particolare, ma sono proprio delle bande che girano e vanno a selezionare proprio determinati tipi di vetture, anzitutto vanno a prendere le vetture meno recenti perché avevano dei catalizzatori più grandi e soprattutto posizionati nella parte più comoda, quindi togliere un catalizzatore di questo genere per un esperto ci mette dai 4 ai 5 minuti, forse anche meno per dire, il catalizzatore è molto grosso e quindi rende molto, quindi il problema è che tantissime persone su macchine che praticamente non hanno più valore, l'altro giorno ci ha chiamato uno, un signore con una Fiat Multipla, praticamente con pochissimo valore, gli avevano portato via il catalizzatore, il costo del catalizzatore superava il valore della macchina e così tantissimi altri, la mia macchina vale 500 Euro, il catalizzatore ne costa 1500, mettono in ginocchio un sacco di persone che ovviamente se hanno una macchina così vecchia vuol dire che tanto ricchi non sono, quindi è proprio come dicevo all'inizio una piaga sociale che secondo me dovrebbe essere attenzionata o dovrebbe essere presa in considerazione in maniera un pochino più particolare da parte di chi gestisce questa città, non voglio sempre costantemente rifarmi al Sindaco Sala, del quale sapete la mia opinione che è veramente abbondantemente sotto i tacchi delle scarpe e non vado oltre per non ricevere delle denunce, però è veramente una persona che trascura oltre alla sicurezza che c'è in Milano veramente una città, forse anzi sicuramente la città meno sicura d'Italia, ma anche problemi così particolari, una volta che se uno si attrezzasse in maniera logica, trovare queste bande di persone non è poi una cosa così impossibile, il problema è trovarli, prenderli, sbatterli in galera e non farli uscire il giorno dopo, ma almeno provarci, qui nessuno fa mai niente e quindi è sempre il solito discorso che i più deboli ci rimettono, infatti questo Sindaco qua è notorio che è dalla parte di quelli che hanno tanti soldi e tutti quelli che viceversa hanno problemi a campare giornalmente, da questo Sindaco qua non hanno assolutamente nessun beneficio e questo è uno degli aspetti appunto di quali vi ho parlato. Entrando nel merito appunto ho fatto tutto questo pippone per dire che anche questa macchina che forse è un pochino meno recente, questa macchina poi fra l'altro non ha il catalizzatore messo nella parte diciamo comoda, ha il catalizzatore messo nella parte prima del fra il collettore e il FAP, quindi messo anche in una parte abbastanza scomoda, nonostante quello, il vantaggio è che questa macchina è molto alta perché ha un assetto diciamo da due pollici e mezzo, quindi non è stato molto difficile andare sotto alla macchina, nonostante che fosse messo in una posizione non propriamente comoda, gli hanno portato via, gli hanno tolto il catalizzatore, quando il cliente, la cliente perché una signora ha acceso la macchina la mattina si accorta che faceva un rumore impressionante e ci ha chiamato, abbiamo dovuto ripristinare appunto la situazione, per fortuna in questo caso non è stato un danno grossissimo considerando il fatto che questa macchina chiaramente è una macchina ancora abbastanza recente e ha comunque un valore assolutamente doveroso metterla a posto, però ripeto, chi più chi meno non si salva a nessuno, purtroppo uno che non ha un box, non ha la necessità di mettere la vettura in strada ogni mattina in una città come questa deve pregare di dire accendo la macchina speriamo che non mi abbiano portato via il catalizzatore, la sostanza è un po' questa, quindi ripeto puntata particolare, sfogo del tutto personale perché trovo che sia veramente incivile che in una città come questa succedano cose di questo genere e sarebbe anche ora e modo di metterci una pezza, ma in maniera seria, non girando le cose in maniera politica per poi non concludere mai un cazzo, quindi il mio risentimento è basato su dei dati di fatto che sono inequivocabili. Io direi che anche per questa puntata, per questa motivazione, per questo argomento abbiamo chiuso, vi invito come al solito a seguirci sul canale, a cliccare sulla campanella, ovviamente iscrivendovi al canale rimarrete sempre a aggiornarsi su tutto quello che noi facciamo, per il momento è tutto, alla prossima!